quanto è antica vedi quelli sono i ruderi dei ripari che gli abitanti del paese avevano costruito più volte lottando con le acque piovane che precipitavano dalla montagna invece in alto sulla collina si drizza ancora nel cielo la croce della chiesa che brilla nel sole in un accecante vedi quanto è antica la superiorità della nostra religione il mio amico mi parlò così ecco risposi tu in cambogia non hai visto le radici degli alberi cresciute sui templi e dentro i templi abbandonati che testimoniano l'enormità del tempo che ha fatto crescere quelle radici tempo molto più poderoso dei duemila anni della nostra religione che c'entra la cambogia vive la sua religione noi viviamo la nostra disse il mio amico ma non ti viene in mente che in cambogia i fedeli hanno abbandonato i loro templi perché sono più vicini di noi alla religione della coscienza che veramente la casa dell'assoluto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti